La Repubblica sarà riorganizzata into the first galactic empire! Di cui andremo a parlarne perché si è visto praticamente tre volte e tre volte rubato la scena. Grandi crosshair, quando rappresentano così un clone, soprattutto mi è sempre piaciuto per quello stuzzichino che sarebbe poi una sigaretta, questo essere un anti-eroe, ma vederlo così e poi in quella scena di cui poi andremo a parlare. Mi sono veramente esaltato, innamorato, ma prima di andare a parlare dell'episodio, qui dietro vedete Star Wars Aftermath, il primo in italiano della trilogia di Aftermath. È rarissimo, è introvabile, lo vendiamo sul nostro store ebay, di cui trovate il link in descrizione e qui nella chat ogni tanto compare. Se volete stare aggiornati su sconti Amazon o sul nostro store in vendita, trovate anche il link Telegram, libero a tutti, in cui vi aggiorniamo anche sull'uscita di video, dirette, eccetera, eccetera. Tutto in descrizione e qui nella chat. Ma qui con me oggi a parlare di questo episodio, di questo punto di svolta, come dice il titolo, ci sono con me i miei due copiloti. Il primo è tornato da poco dalla terra di mezzo, dalla contea gentile, quindi accogliamo con un caloroso abbraccio Sir Percival. Buon salve Emilio, buon salve a te, un saluto a tutta la chat, a chi ci sta già ascoltando, un saluto anche al collega che tra poco presenterai e sì, sono tornato dalla terra di mezzo, infatti sono tutto assolato, però sono pronto a scaldare i motori per ripartire verso la galassia lontana lontana, quindi si salta da una saga all'altra. Esatto, dalla terra di mezzo, la galassia lontana lontana e a pilotare con noi, a guardare bene, a difenderci dall'impero, è tornato anche il buon Diego, benvenuto. Salve, salve a tutti, galassia lontana lontana, terra di mezzo io invece oggi mi sento un po' nell'universo di Batman, perché voglio fare un po' due facce, perché sono gasatissimo dalla puntata, ma sono anche incazzato nero per la totalità della serie, per come è stata gestita, quindi voglio fare nella mia analisi oggi un po' due facce, perché la serie se lo merita sia in positivo che in negativo. Adesso quindi andremo a snaturare tutto quanto, perché abbiamo tre pareri come sempre, saremo d'accordo su alcune cose, su altri sicuramente contrari, ma sarà bello andare a analizzare, perché è una puntata che ci riporta esattamente dove volevamo tornare, da Crosshair, che era stato preso dopo aver ucciso il capitano e portato sul pianeta Weyland, sul monte Tantis, e lì aspettava Hemlock, che lo voleva a tutti i costi, voleva parlargli, e gli hanno detto, tu fai quello che ti dice e non soffrirai. E lui davvero BDS ha detto, no io faccio quello che voglio, quindi si è fatto torturare dal droide IT-0, il droide della tortura da interrogatorio, non ha detto niente, e in più ha detto, giustamente, io non so niente. L'ultima volta che l'ho vista era un suo cammino, non so altro. No ma tu sai come loro si muovono, a me serve quello. E lui di nuovo zitto, nel suo patto di non belligeranza verso i suoi fratelli, tant'è che nella scena, secondo me, bomba di questo episodio, lui fa finta di aver perso i sensi, prende l'arma, uccide gli stormtrooper, va avanti, e qui mi è piaciuto, perché la Bad Batch non uccide mai, ha sempre lo stordimento, e lui invece lo vediamo, lui gli ammazza, perché lui è crosshair, perché lui è spietato, è diverso comunque dai suoi compagni, lo sarà sempre nella caratterizzazione. Arriva, contatta i compagni attraverso l'antenna, molto simile a quella di Scarif, anche come rotazione, codice, il cercatore, che loro utilizzano dei codici di comunicazione, in questo caso l'88, il cercatore, vi stanno cercando, arriva al gas, ma lui ha mantenuto questa fratellanza, e torniamo anche un po' al discorso di Tech, lui ha scelto quel sentiero, però non cambierà il fatto che siamo stati fratelli, che c'è del bene in noi, che poi sia esplicito, implicito, comunque c'è del rispetto, e a me questa cosa è piaciuta molto, anche perché Sid, che noi avevamo un po' per scontato, avrebbe mosso le pedine, in realtà, per fortuna, in questo caso, non si è mossa, gli eventi hanno iniziato un corso per un motivo differente, un motivo che è questo personaggio assurdo, che è Crosshair. Ma Sir Percival, dici la tua riguardo all'episodio. Sì, allora, io penso che il titolo dell'episodio sia un po' indicativo di quello che ha rappresentato, cioè un punto di svolta, effettivamente, che ci catapulta verso il finale di stagione, con una tensione che sta evidentemente crescendo. Dico preliminarmente anch'io che, effettivamente anch'io, ho delle vibes ambivalenti, nel senso che se da una parte l'ho molto apprezzato come episodio, dall'altra c'è un po' il rimpianto per una stagione che è sbocciata evidentemente troppo tardi. Ok, come ho detto anche le altre volte, però, insomma, mi sembra sempre giusto ribadirlo, se avessi avuto pochi episodi, fatti bene, l'avremmo apprezzata di più e anche ci saremmo annoiati di meno con le puntate verticali che sono state inutili. Ma tolto questo, e tolto anche qualche puntiglio che magari ho notato nella sceneggiatura, di cui poi magari parleremo nello specifico nel corso della puntata, però ho apprezzato generalmente tutto. Dal punto di vista tecnico, le scene action sono state dirette molto bene. Come sempre io dico, nell'animazione è quello che scegli di mettere, che è la regia, no? Cioè come scegli di animare i personaggi, come scegli di costruirli, che fa la regia dell'episodio, dato che non sono appunto personaggi in live action. E quindi devo dire che ho capito bene tutto, non c'è stata confusione, come per esempio nella puntata di Pub con quel maremoto, qui invece le scene action si capivano, la battaglia anche spaziale iniziale, gli scontri, anche Crosshair, insomma, quando si è liberato, mi è piaciuto, mi è piaciuta la sua caratterizzazione. Devo dire che Crosshair è un po' forse il vero protagonista della stagione a questo punto, perché in ogni puntata in cui c'è stato lui, io ho visto una bella scrittura. Nonostante il minutaggio. Esatto, nonostante il minutaggio risicatissimo rispetto alla Bad Batch, in realtà è stato veramente il motore, il cuore dell'azione. Cioè tutte le puntate in cui c'è stato lui è successo qualcosa di importante. Non è stato mai filler, mai inutile. Quello che mi piace, mi sta piacendo di questo scorcio finale di stagione è che si veda una minaccia seria, quello che ad esempio manca in The Mandalorian, addirittura qua campeggia Tarkin per un momento, quindi insomma mi ha fatto piacere. Tutte le citazioni alla saga secondo me sono al punto giusto. Ecco anche il droide hit zero che ricordava Leia, l'interrogatorio, quindi mi è tutto piaciuto. Anche quella citazione a Balmorra che mi ha ricordato la Malevolence, le prime puntate di The Clone Wars. Quindi nel complesso un bel episodio e l'unica cosa, e qui chiudo, è che l'impero, questo un po' a livello di coerenza della scrittura, sta impiegando molte risorse per trovare questa clone, quindi Omega, per interrogare Namasee, scusate se ho detto giusto, dovrebbe essere lei, la caposcienziata di Camino, ma loro già ce l'hanno, quindi non capisco bene perché devono impiegare così tante risorse per trovare una clone, per avere una leva per interrogare lei quando già hanno lei, ma allora tanto vale, torturate lei, cioè mettete sotto Torquio Namasee se vi serve qualcosa. Però comincio a capire che forse c'è qualcosa di più grande dietro, perché molti cloni si stanno riballando e quindi il problema potrebbe essere più profondo. Però, ottimo episodio. Infatti tu hai citato anche Tarkin, e qui Emelok ne avevamo già parlato, di questo carisma che ha, questa potenza, questa aurea intrinseca che lo circonda. E quando Tarkin fa, stiamo ritirando dei cloni. No, 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 guardate, io ho un piano migliore. Tarkin lo guarda e gli dice, fai. Quindi quest'uomo ha una fiducia incondizionata dell'imperatore, di Tarkin e che ammirà gli ora governatore, non ancora Gramhoff, ci vogliono circa cinque anni da qui perché sei Gramhoff, però una figura veramente importante per l'impero. Quindi vedere Tarkin così, che consente, senza sapere nulla come noi spettatori, lascia intendere che questo Emelok, il suo piano, di questa struttura scientifica avanzata, di cui nessuno sa nulla, sia molto importante. Ma a tal riguardo voglio sapere cosa ne ha pensato invece Diego di questa visione. Io sono stato molto soddisfatto della visione, però non vorrei passare per l'individuo che rovina la festa. Però diciamo che c'è un discorso che da questa puntata si estende a ritroso perché comunque qualche settimana fa noi dicevamo beh ma questa stagione stando piano si salvano solo tre puntate. Adesso cominciano ad essere di più le puntate che si salvano effettivamente, cominciano ad essere di più le puntate di qualità. E se voi vi rifate un giro a ritroso riguardando la lista su Disney+, secondo me ci potremmo trovare nella media fino ad adesso anche superiori alla prima stagione a puntate di qualità perché ho rivisto un po' i titoli, quelli che mi ricordo e quelli che non mi ricordo e mi sembra di trovare diverse puntate adesso in questa seconda stagione che sono di alto livello. Qual è il problema? Mi sono divertito a farlo anche come gioco e con l'uscita in coppia o accorpando delle coppie di puntate che sono state un po' mehe, si ottiene secondo me una distribuzione che avrebbe spaccato il culo, cioè scudere il francese, però veramente... Io secondo me sono... Cioè io dico a Lucas che mi siete dei folli perché in un certo senso vi siete auto-boycottati con le distribuzioni di alcuni episodi perché per esempio, faccio un esempio proprio recentissimo, proprio di questa settimana. In questo episodio, anche se non abbiamo ancora parlato, ritroviamo Pabu. Quanto sarebbe stato valorizzato quell'episodio se fosse stato unito a quello di oggi o almeno distribuito in coppia? Perché qui ci ricolleghiamo quasi direttamente e non c'è stato nemmeno uno script temporale così lungo, secondo me, dalla scorsa episodio. Quindi pensate, se vi rilasciano Pabu e questo episodio, nella stessa settimana te li vedi uno di fila all'altro come cambia la percezione di quell'episodio. E sul lungo andare di tutta la serie, di tutta la stagione, una stagione che probabilmente, ripeto, rivista, invince, come diciamo anche della scorsa, acquisisce punti. Il problema è che la distribuzione, il primo impatto che ha un utente che segue Disney+, che ha l'abbonamento, che è molto appassionato e quindi se la vedi una volta a settimana, è minore a quella che potrebbe avere un utente che se la guarda tra un anno. Entro un attimo, Diego, perché effettivamente io ho rivisto la prima stagione, rivedendola tutta di fila, ho goduto di più. E qui torniamo al fatto che l'uscita settimanale non premia l'utente. No, no. E andrebbe rivista. Non premia e secondo me potrebbe premiarlo comunque se pensate in un altro modo, quello di cui dicevo prima, o rilasciare episodi in coppia, o unire alcuni episodi filler che abbiamo visto con episodi più importanti. Ripeto, poi secondo me lo sforzo da fare non era molto. Però detto questo, l'episodio di questa settimana è molto bello perché mette molta carne a fuoco innanzitutto, molti dialoghi tra personaggi che magari avrei voluto vedere anche prima, che qui ne troviamo molti. Magari penso anche a un piccolo dialogo che avviene tra Hunter e Tech a un certo punto, che è messo lì, però ha un suo perché in mezzo a tanti altre cose che hanno un suo perché. Quindi veramente qui si sono... Poi tra l'altro come diceva Ser Persio a livello tecnico hanno dato un tono coerente a tutta la puntata, a parte il piccolo scorcio di Pabu, però tutto quello riguardante, insomma, anche questo impianto un po' misterioso che c'è con questo mistero, cosa ci fanno con questi cloni, dove li portano, che è un po' un mistero che anche viene introdotto. Quindi è stato un bellissimo lavoro da parte del team in questo caso e veramente pochissimi difetti che io ho rilevato in questa puntata, proprio dei puntigli che ho pensato vedendolo, magari adesso ne parliamo davanti, ma se io dovessi dire a bruciapelo un parere, io la promuovo proprio a occhi chiusi. Ripeto, due facce, Harvey Dent. Dart-Bassocele è un cavaliere Jedi. Ciao a tutti. Dartcele è benvenuto nella resistenza di cloni che qui si sta muovendo. Meglio, bentornato qui con noi in questo episodio che mi ha soddisfatto perché finalmente, come stava dicendo Diego e Ser Percival, è riuscito a culminare tutto quanto. Io nel guardarlo già all'inizio ho visto Gregor, ho visto Ico, la resistenza che stava creando per l'appunto Rex di cui parlava, con Ciuci, che hanno creato all'interno di Coruscant, nel garage delle Martesse, questa sorta di moto di resistenza. È nel cuore dell'impero, ma sotto. E si ricollega sia alla settima di The Clone Wars, sia alla prima di Bad Batch. Quindi finalmente... Anche questa cosa. È molto bello ritrovare anche solo questa ambientazione riutilizzata, per esempio. È una cosa che pensare che l'hanno pensata è figo. È figo. Ti dà un senso finalmente di soddisfazione perché dici, ok, ho seguito alcune sottotrame, ma qui con poco, anche con i dialoghi, come tu hai detto, riusciamo finalmente ad avere un po' più di introspezione. Perché anche Hunter, finalmente, dopo 14 puntate, mi è uscita la sua ambiguità della guerra. Cosa faccio? Ti lo Dio. Metto su famiglia, non la faccio, perché è un rischio per noi. Ed ecco che è cominciato a uscire con tutti gli altri che dicono, ma qui ci troviamo bene, Omega che si addestra, c'è un percorso, loro che ritrovano Echo, non dopo tanto tempo, ma quell'abbraccio forte mi ha regalato emozioni. Quindi c'è una costruzione che non solo d'azione di crosshair, ma anche gli altri, finalmente, dopo 14 puntati, mi hanno regalato emozioni. Inizio a comprenderli, a capirli. Vrecker è sempre quel giocherellone che qui si trova bene, vado a pesca, gioco con i bambini, ci sono, dai, arrivo. Mi è piaciuto però, è un episodio che secondo me riesce a soddisfare. Ma Sir Percival, voglio che entri un puntiglioso, colpisci duro, dove devi colpire? Sì, allora, diciamo alcuni piccoli puntigli li ho notati, ma perché, insomma, quando vedi una bella cosa di cui apprezzi comunque l'80-90%, però magari quelle piccole stonature un po' ti colpiscono, no? Allora, iniziamo dall'inizio, cioè appunto dal principio della puntata, ossia noi vediamo questo movimento di resistenza dei cloni, e questo già è molto interessante dal punto di vista della trama galattica, tant'è che io proporrei di chiamarli più che resistenza, che è un termine che si rifà poi alla trilogia sequel, più che altro questi sono lealisti, cioè noi vediamo questa fusione tra i lealisti del Senato, quelli che poi in una scena tagliata di Episodio 3 addirittura facevano la famosa petizione dei 2000, cioè quei senatori tra cui Ciucci e gli altri che comunque sono fedeli ai vecchi principi della Repubblica, e quello che era il vecchio esercito, la grande armata della Repubblica, no? E loro sono rimasti leali a quella che era in realtà la loro missione, cioè loro erano stati creati, questi poveri disgraziati cloni, per difendere la Repubblica, e chi ha veramente tradito è Palpatine, cioè chi ha veramente tradito la galassia, tra l'altro creando una guerra in cui lui comunque fosse andata sarebbe risultato vincitore, è stato appunto Palpatine, e quindi mi è piaciuto molto intanto questo aspetto quasi anche politico della storia della galassia che dà quella profondità lì, cioè questo movimento di lealisti che fondono insieme quindi i senatori ancora leali a quell'idea lì e i cloni che ne erano i loro difensori già durante la guerra, e poi come sempre anche il lato umano in questo forse filoni riesce ancora a dare qualcosa di interessante, a differenza di quello che vediamo in The Mandalorian, ossia come sempre l'aspetto veramente triste, forse quella dei cloni l'avevo già detto, è una delle vicende proprio umane, collettive, più tragiche di tutta l'epopea di Star Wars, almeno per quanto riguarda la saga degli Skywalker, cioè una generazione perduta, un esercito di soldati creati per morire per una repubblica che in realtà era già un impero segretamente, e poi finita la guerra smantellati come Rottami, come i loro nemici droidi che avevano a lungo combattuto, è un paradosso quasi, un contrappasso quasi dantesco e quindi la trovo veramente una vicenda umana struggente, poi vabbè, si sono rivisti ovviamente anche membri storici che abbiamo appunto Gregor, insomma con la sua, con il suo carattere che abbiamo amato già in The Clone Wars e anche lì le piccole citazioni Balmora che appunto ci ricorda la battaglia con la Malevolence, questa Dreadnought che all'inizio della guerra che l'avevano tra l'altro ripreso da Legends, c'era il fumetto La Vendetta dell'Imperatore, non ricordo il titolo inglese, ma c'era Balmora, poi in The Clone Wars l'hanno canonizzato, ma io mi ero dimenticato in questo gruppo che viene salvato perché noi abbiamo Echo, Tech, Fireball e Nemeck, ma viene salvato Hauser che era quel clone che io ho adorato in The Bad Batch su Ryloth che aveva disertato perché non voleva attaccare per l'appunto Sindulla e rivedere anche lui mi ha dato un po' di soddisfazione. Sì, è stato bello anche perché ecco vedi veramente che a parte poi la superiorità combattiva di questi cloni, quindi anche la miopia dell'Impero in un certo senso che spenderà miliardi, triliardi di crediti per costruire le Morti Nere che sono armi inutili, quando avrebbe potuto tranquillamente continuare allora a creare dei cloni che sono dei soldati estremamente superiori agli Stormtrooper, lo abbiamo visto, quindi anche lì insomma una gestione militare dell'Impero tutta basata sull'apparenza, sulla potenza di mostrare i muscoli che serve a schiacciare ogni anelito di ribellione ma in realtà poi ecco l'esercito imperiale è estremamente più scarso di quello che era quello della Repubblica. L'unico puntiglio e qui chiudo su questa prima parte è che come sempre i buoni vengono rappresentati forse come fin troppo buoni da un certo punto di vista nel senso che quando tu comunque combatti una guerra devi combatterla a me questo fatto che loro comunque stordiscano i nemici che serve in qualche modo a farti vedere che loro sono buoni cioè che non uccidono non è che mi piaccia poi tanto perché lo trovo un po' irrealistico che se uno ti sta che ne so sparando con una pistola tu gli rispondi con un taser nella realtà volendo trasporre nella nostra realtà ma questo ecco è un puntiglio capisco perché lo fanno perché anche in passato c'erano state un po' di polemiche su magari i cloni che a Genosis sparavano ai genosiani i civili cioè nel senso agli autottoni però ecco via alla fine si combatte una guerra la combatti cioè spari anche tu ti difendi ma ecco è un puntiglio perché vabbè vogliono farli sembrare come buoni però può starci comunque interessante davanti l'inizio mi è piaciuto molto diciamo che questa cosa poi ha senso questa cosa di serpersonale perché loro all'inizio lo facevano quando si trattava di sparare ad altri cloni quindi noi ci giustificavamo la cosa con non vogliono sparare ai loro fratelli cioè sembrava proprio questo il punto di usare lo stordimento adesso in effetti lo fanno con gli stormtrooper anche cioè io non l'avevo notato però in effetti è un po' anche secondo me una cosa che lascia un po' desiderare ma anche perché loro sì ok sparavano dei droidi durante la guerra però sparavano quindi sì a regola il nemico lo uccidi quando sei in guerra quindi sì è un po' un po' particolare almeno che non entrava appunto questa variante cloni contro cloni noi siamo i cloni che non vogliono uccidere i nostri fratelli perché sappiamo che hanno il chip inibitore eccetera e lì lì ti dico ok hai ragione quello che non ha convinto tanto a me ma è un po' una cosa un po' rincarbugliata e so che sono anche un po' impopolare perché Emlock che so che è stato apprezzato da molti anche da voi nelle precedenti secondo me ha ancora qualche tratto della sua catturizzazione un po' troppo stereotipato per esempio le scene degli interrogatori cioè le scene degli interrogatori le ho trovate un pochino quasi fine a se stesse perché la modalità di interrogatori è particolare perché lui chiede a Crosshair di dirgli dove sono i membri della Clone Force 99 però effettivamente Crosshair come ricordavo non sa proprio dove sta la Clone Force 99 perché si sono lasciati alla fine della prima stagione che ognuno va per le sue nonostante il tacito accordo di non ci scontriamo più quindi sì come dice su Crosshair non tradisce ma appunto per questo mi hanno fatto un po' strano le scene dell'interrogatorio perché lui nell'inquadratura diciamo ti fa pensare a lui sta resistendo per non dire in alcun modo dove si trova la Conforce 99 ma lui effettivamente non lo sa quindi diciamo questa tensione mi veniva un po' disturbata da sapere questa cosa che lui effettivamente non lo sapesse quindi questo interrogatorio era un po' così molto più scenico che funzionale secondo me e appunto Emlock per esempio l'ho trovato molto interessante invece quando c'è quel discorso sulle tossine che lui rilascia questo veleno e si fa addirittura quella boccata proprio e dice che lui è diventato immune quello per esempio l'ho trovato molto figo per quanto riguarda la sua caratterizzazione altre scene il coprano d'ortar king anche altre scene l'ho trovato un po' troppo il cattivone mi fa se non parlerai ti tortureremo un po' così quindi per me è ancora un personaggio che sto cercando bene di inquadrare perché è molto simile a tanti altri nemici che abbiamo visto con qualche spunto personale che però questo problema l'abbiamo già detto ai tempi è anche derivato dal fatto che l'abbiamo visto troppo poco l'abbiamo visto troppo tardi e di conseguenza tipo è la seconda puntata questa in cui lo vediamo forse o la terza però diciamo che in così poco tempo ci sta anche che sia difficile approfondire un cattivo di cui doversi sapere tutto il lato psicologico come ragiona se è strategico se insomma tante cose ecco Aureliano 34 è un cavaliere Jedi ciao a tutti Aureliano 34 grazie mille per essere qui con noi nella resistenza di cloni e qui in questo grande episodio perché Diego stava per l'appunto citando Emlock che anche io ho trovato un personaggio un po' sopra le righe in alcuni punti ovvero come tu hai fatto notare l'interrogatorio ok la prima ok la seconda anche sul finale ripetermi questa cosa qui per farmi capire che lui è cattivo ma già l'ho capito ed era interessante solo la scena lì delle tossine perché mi fai capire che lui ha sperimentato tanto e ce lo diranno poi la Colom Force 99 lui l'ha incacciato dalla Repubblica perché i suoi esperimenti erano un po' amorali un po' troppo per una democrazia ma adesso sta lavorando per l'impero quindi che cosa vuole fare? questo lo rende più interessante più cattivo più amorale di ogni altra cosa e invece dovermi far vedere quella scena più di una volta con la sua la sua seconda la dottoressa che ogni tanto guarda Crosshair quasi compatendolo altre volte sembra che ne sia attratta innamorata devo anche capire lei questa ambiguità che ogni tanto manifesta lascia intravedere qualcosa di eccessivo anche perché lei lo chiama sembra una banalità lei lo chiama per nome dice Crosshair non lo chiama come codice come col numero insomma quindi anche questo magari ne è affascinata effettivamente di solito abbiamo tutti che li chiamano come faceva Rampart col codice trattati proprio come prodotto e lei invece ha questa umanizzazione che è interessante però torniamo al fatto che siamo alla fine tutte queste cose interessanti le hanno portate qui al 14esimo avrei voluto vederle di più con più calma perché rendevano tutto più interessante ma saluto un attimo Ender Nick Raisares e tutti gli altri moderatori che sono qui con noi grazie mille per proteggere la nostra chat e anche a che voda fastidio il fatto delle armi infatti loro usano sempre lo stordimento anche io ho detto cavoli ma perché perché di nuovo siete una resistenza andate a salvare i vostri fratelli i cloni ormai siete contro l'impero perché non usate i blaster dovevano fare come Crosshair bravo si trova il blaster lì e lì infatti io ho apprezzato Crosshair perché è quello che devi fare in guerra soprattutto qui mi presentano tutta la sequenza che è bellissima dell'attracco iniziale in cui loro fanno finta di arrivare in un punto ma poi attaccano dall'altro con le granate che sempre stordenti arrivano da questo capitano Pierce e lui dice mi arrendo e qui ho detto va bene stava cancellando i dati eccetera si è arreso ma fanno vedere che lui è suicidarsi sempre con il dente avvelenato con la scossa che abbiamo già visto e questo mi toglie anche a me un po' di credibilità perché sono i buoni ma stiamo iniziando una guerra è un cartone animato ok però comunque loro si tolgono la vita non è bello far vedere secondo me e condivido un clone che spara e uccide un avversario però mi domando anche un bambino la capisce la differenza tra il raggio stordente e il blaster io non credo lo capiamo noi fan secondo me è steso la notte che gli spari cade per terra sì ma era chiaro nella teologia originale perché lo vediamo con Leia era chiaro noi che abbiamo seguito tutto ma un bambino che accende Disney Plus si guarda la puntata non gli arriva effettivamente ah ok è cerchio quindi è stordente o è dritto quindi un blaster siamo noi a notarlo quindi io andrei un pochettino di più magari cambiamo il colore al raggio dici che il rosso è troppo vicino al sangue lo facciamo blu però sappiamo che quel raggio lì c'erano anche c'erano anche dei laser ci sono anche dei laser che sparano blu comunque Star Wars quindi non sarebbe non si dovrebbe manco giustificare a livello di lore le armi dei cloni in tutta la guerra sparavano sempre laser blu quindi esatto per tutta la guerra è stato così poi tra l'altro come tu dicevi emilio poi The Clone Wars se ci pensiamo non si è mai fatto problemi a fare delle scene anche un po' più crude magari magari non mostrava l'ultimo colpo cambiando la linguatatura però comunque che arrivava quello che succedeva questa però qui sono già in armatura in Star Wars l'abbiamo visto tante volte live action sparare ai cloni sparare agli stormtrooper e semplicemente gli si fa un cerchietto qua però tu in testa sai che è morto e l'hai ucciso quindi secondo me potrebbero farlo tranquillamente questa però era una deriva che se vi ricordate era già un po' iniziata con Rebels cioè in molte puntate si evitava proprio di far vedere che i membri della Ghost sparassero per uccidere cioè talvolta preferivano molto gli stordimenti c'era comunque il il Lasat adesso oddio mi sfugge il nome aiutatemi Zeb bravissimo che andava con il suo bastone storditore anche lì quindi si cercava sempre di far vedere che sono i buoni l'unica che un po' si manteneva sul violento passatemi il termine anche se veramente parlare di violenza insomma mi sembra un po' eccessivo era Sabine in quanto Mandaloriana e allora i Mandaloriani si facevano meno scrupolo però ecco questa cosa di far sembrare i buoni che non uccidono insomma a me mi è sembrato sempre un buonismo inutile perché poi ecco alla fine siamo in guerra e Piro ci sta di uccidere secondo me però in Rebels secondo me perché si è vero ben preso con la deriva però andava giustificato anche il fatto che in quel periodo a livello di lore abbiamo Sogerrera che è un terrorista e la nuova alleanza ribella che sta cercando di differenziarsi esatto di dire noi comunque uccidiamo solo quando è necessario mentre Sogerrera è capace anche di mettere le bombe tant'è che ucciderà Panaka con un ordigno esplosivo attentando anche alla vita di Leia ed è lì che Baylorgan esplode e dice no no tu non fai più parte della ribellione tu te ne vai i tuoi partigiani siete terroristi anche per noi quindi forse quel filo lì ce lo vedo in Rebels che comunque è fatto per bambini però dava una sorta di equilibrio narrativo perché poi quando vediamo Sogerrera in Rebels che prende anche a calce cazzotti il genosiano purello clic clac è vero sì 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 ti dispiace perché allora vedi la doppia faccia anche quando arriva quel dialogo forte tra Mothma e Sogerrera vedi i due lati della ribellione quelli estremisti e quelli invece più buoni qui però essendo cloni essendo che loro stanno combattendo non per la democrazia ma per i loro fratelli per liberarli per questa oppressione esatto per sopravvivere lo rende un pochettino diverso loro sono stati addestrati come giustamente ha appena detto Sir Percival Sabine Mandaloriana e lei sparava tranquillamente i cloni sono nati per uccidere creati per uccidere da un Mandaloriano da un Mandaloriano comunque ma infatti anche poi la ribellione cioè nel senso quello che volevo dire io è sì la differenziazione ci sta però poi non è che in Rebels insomma la Ghost non facesse che ne so precipitare Star Destroyer far esplodere tutta la base lì sull'Otal cioè comunque poi alla fine ecco ti ribelli ecco forse questo è il grande presso di Andor ma la stessa ribellione ne ha uccisi di Sornotrooper forse è per quello che abbiamo poi apprezzato tanto Andor e anche Rogue One perché ci ha restituito quel lato proprio di ribellione che comunque è sporco cioè che comunque non si fa problemi comunque a combattere l'impero come va combattuto perché appunto siamo in guerra per me Clone Wars da questo punto di vista resta tra le serie animate quella più equilibrata perché ok è vero che lì si trattava di abbattere delle macchine quindi ci sta che c'è quella sorta di cosa in cui tu appunto non stai uccidendo delle persone dei soggetti organici ma delle macchine però lo trovavo tutto più coerente in un contesto di guerra in cui comunque c'è da combattere e non ci si risparmia poi dopo magari volevo fare anche io una considerazione su Emblock volevo un attimo giusto entrare siccome ci è dato Andor in una domanda di Jamilige per quanto riguarda il macchinario per le torture quindi IT0 quello dell'interrogatorio mi sarei aspettato una citazione a quello che vediamo in Andor anche perché a sto punto se esiste già quel droide per le torture perché non usare gli ultrasuoni in Andor perché gli ultrasuoni in Andor lo dicono in quell'episodio li hanno scoperti dopo che l'impero ha praticamente decimato distrutto annientato una specie locale ed erano i pianti di questi bambini che gridavano disperati quindi non è ancora successo ancora prima di quello sterminio l'impero non ha ancora fatto l'atrocità di Antar o lo sterminio licitato quindi la sperimentazione funziona sui drog da interrogatorio che vediamo già in era repubblicana qualcosina qui è l'evoluzione la prima evoluzione imperiale però non siamo ancora con gli ultrasuoni manca ancora del tempo i daisoniani bravissimi gli alieni i daisoniani sono ancora vivi infatti è della Dyson nel dispositivo ma Sir Percival entra nel discorso di Emlock sì no volevo volevo anche io fare un commento su Emlock perché se un po' il protagonista della puntata è Crosshair in fin dei conti dall'altra vediamo questo villain che comincia a crescere allora Emlock rischia di essere secondo me il più grande rimpianto proprio di Bad Batch perché se come purtroppo temo non ci sarà una terza stagione e quindi si chiuderà tutto con la seconda questo sarà un grande rimpianto di non aver approfondito questo personaggio di averlo fatto entrare in scena tardi e quindi di non averlo fatto sbocciare in fin dei conti io sono un po' più generoso rispetto ai vostri commenti su di lui perché sì a volte mi è sembrato un pochettino stereotipato però mai sopra le righe cioè io forse anche perché sto apprezzando molto il doppiaggio italiano di questo personaggio c'è una voce veramente molto bella calda che però è anche cioè calda nel senso che è avvolgente però paradossalmente anche fredda anche pungente e è molto strano come effetto l'ho trovato sempre posato ti dà quell'inquietudine vedete anche l'effetto di fargli fare ogni tanto delle pause quei sospiri di stanchezza di frustrazione di doversi in qualche modo scontrare con la con la resistenza di questo colone che appunto non si piega a dare le informazioni informazioni che poi effettivamente non ha perché lui non sa dove si trovi la bebece però lì me lo sono giustificato con il fatto che ok nessuno sa dove la bebece sia non lo sa lui non lo sa eventualmente Rampart non lo sa Cody che non si è più ritrovato quindi non lo sa nessuno però l'unico che ha un collegamento è un ex membro che può conoscere gli spostamenti quindi è anche coerente dal punto di vista di scrittura semmai quello che ecco come dicevo all'inizio un altro puntiglio che non mi torna è l'impiego di così tante risorse è un problema più strutturale diciamo cioè di impiegare tutte queste risorse per torturare lui per piegare comunque un soldato esperto che magari è anche abituato diciamo a resistere agli interrogatori a soffrire anche laddove tu hai già in mano colei cioè namasee che ti serve per raggiungere lo scopo dei clonatori cioè di di clonare palpatine o comunque fare quello che vogliono quindi perché non interrogare direttamente lei perché perdere tutto questo tempo per cercare la bad batch che ha la piccola clone che poi ti serve per stringere il cappio su namasee cioè interroga direttamente namasee allora questo me lo sono spiegato col fatto che forse c'è qualcosa che non ci stanno ancora dicendo cioè che il problema di questi cloni che si stanno ribellando in massa o comunque sempre più spesso mettono in discussione nell'impero è forse un malfunzionamento che il chip inibitore non tiene più a freno cioè proprio un malfunzionamento dei cloni che non che il chip cioè di cui il chip non riesce a sopprimere fino in fondo quella parte umana emozionale che viene fuori cioè quella parte di vabbè ma noi eravamo stati creati per la repubblica non per l'impero cioè noi eramo amici degli jedi non assassini di jedi quindi forse omega potrebbe secondo me avere un gene o qualcosa che potrebbe non lo so forse fixare i cloni o magari cambiare qualche aspetto dei cloni però che servirebbe ora che stanno smantellando l'esercito è questo aspetto che non mi torna per il resto e qui chiudo lui mi è molto piaciuto e anche la scena del gas io l'ho trovata interessantissima perché vedete in quella scena lui ci fa capire che è talmente tanto disposto a raggiungere i suoi obiettivi da aver provato sperimentato addirittura su se stesso tant'è di essersi immunizzato al suo gas e vedete quanto ci vuole poco per spiegare una cosa cioè da una parte abbiamo avuto in The Mandalorian in una piccolezza cioè noi non abbiamo capito perché ad esempio uno sconto tra Grogu e il bambino quello ha sparato tre colpi e l'altro uno per volta qua invece tu quando vedi che lui respira il suo gas ti chiedi vabbè ma perché lo sta respirando non ha effetto su di lui e invece te lo spiegano perché basta semplicemente in una frase però ma non solo con una frase con un respiro che lo inala proprio come come a dire wow che bel profumo e ti fa capire quindi veramente quanto basta poco se la scrittura è fatta bene e speriamo che abbia tempo di essere un po' approfondito perché se no sarebbe un peccato io volevo entrare un attimo su quello che hai detto ovvero lui ha sicuramente qualcosa che nasconde a noi spettatori e anche a Tarkin perché Tarkin si è fidato ciecamente di lui quindi abbiamo delle aspettative alte riguardo il percorso di Amlock ciò che vuole fare con la sua divisione di scienza avanzata il problema è che cosa vuole fare perché molti magari nei commenti negli scorsi video mi hanno detto ma il progetto per Jet Trooper c'è già è già avviato però se fosse lui ad avviarlo non mi va a giustificare tutta questa cosa pompata mille del fatto che serve Omega io spero che sia qualcosa che poi mi soddisfi perché sia una cosa poi banale in quel modo i Dead Trooper eccetera eccetera dico ok secondo me non si sfugge dalla trilogia sequel con l'azione di Palpatine sono d'accordo su Palpatine però lui dice non voglio ritirare i cloni perché è un altro progetto per loro quindi io capisco Omega che serve per clonare Palpatine eccetera ma perché non vuoi ritirare i cloni qual è questo progetto che mi stai lasciando intuire legato anche allo Zillobiste all'armature abbiamo in gioco diverse cose sulla clonazione la prima Omega che di sicuro ci porta a Palpatine perché ce l'hanno lasciato annusare perché è lì che stanno andando le cose la seconda è lo Zillobiste per le armature crediamo non abbiamo ancora risposta la terza sono i cloni è uno spreco di risorse e ritirare i cloni ho un altro obiettivo Tark mi dice allora fai qual è questo terzo obiettivo e gli altri due mi lasciano incuriosito vorrei avere una conclusione abbastanza soddisfacente di questi due elementi temo che lo Zillobiste purtroppo sia stato solo un easter egg ragazzi perché perché comincio a pensare che stanno mettendo troppa carne al fuoco che ci devono spiegare questo è vero perché tu tu non cerchi una bambina solo per solo per fare leva su una masè che già ce l'hai cioè ci vogliono fare qualcosa con Omega qualcosa di grosso qualcosa legato a Palpatine perché poi contemporaneamente stava uscendo fuori Pershing in The Mandalorian quindi secondo me non è comunque un caso tutto punta lì per me ragazzi non ci hanno tempo di spiegarci anche lo Zillobiste non per niente temo che sia un easter egg non per niente ai tempi inserirono Grogu in The Mandalorian in America e stava per uscire l'episodio 9 dove poi scopriamo che Palpatine in qualche modo Scienze Oscure bla 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 era tornato e qua sicuramente c'è questo inserimento di un nuovo di una nuova come dicevo prima variante misteri ovvero questi cloni che dicono che li stavano portando lì e loro non sanno il motivo quindi sicuramente sì c'è effettivamente un'altra cosa per quanto riguarda lo Zillobista secondo me il discorso è questo come l'ho misera ai tempi nella in The Law Wars dicendo poi al massimo cioè poi lo riprenderemo poi però non sapevano nemmeno in quel momento se sarebbero andati avanti e qui secondo me è uguale magari hanno un piano per lui ma non in questa stagione e questo quindi dipenderà dal faranno altre stagioni perché Versi tu hai detto di nuovo che secondo te chiuderà qui però secondo me il finale di questa stagione sarà importante perché finale di stagione più rivalutazione di questa stagione una volta che sarà uscita tutta sarà importante perché ripeto attualmente che ancora deve finire per me siamo sopra la prima stagione però questo non garantisce che saranno sopra anche come successo nel pubblico c'è visualizzazioni buzzing quindi il pubblico ne parla teorie eccetera quindi è più importante quello che la qualità lo sappiamo è pur vero che si stanno facendo i tagli quindi potrebbe saltare facilmente ma non mi sento di sbilanciarmi ancora ci ho pensato anche io dopo settimana scorsa ho riflettuto un po' infatti anche su Codenzo scrive poi se non fanno una terza stagione mi mancherebbero sia a voi le vostre analisi mi sono affezionato sui personaggi che a voi e io mi sono ricordato che la seconda stagione è stata annunciata direttamente finita la prima è passato fuori un giorno o addirittura era nell'epilogo c'era scritto torneranno un po' come Marvel quindi per me anche qui faranno lo stesso l'unico dubbio che ho è che magari saranno minori gli episodi allora l'annunciano una chiusura di trilogia forse è meglio però esatto in quel caso sarei più soddisfatto io però secondo me se i tagli vanno a influenzare per come pensate loro hanno messo in progetto una terza perché iniziano a essere un po' troppe le cose che rimangono fuori qui lasceranno sicuramente una chiusura quanto più soddisfacente io credo che perderemo qualche clone non so se Echo però adesso è entrato anche Gregor che poi rivedremo in Rebels iniziano a essere tanti quell'abbraccio di Omega forte straziante se non perdiamo Crosshair perdiamo Echo se non perdiamo Echo Crosshair magari entrambi ci vedo questo lato drammatico perché deve motivarmi la Bad Batch la Clone Force Omega a entrare in battaglia e quindi deve esserci qualche un finale turbante che gli dica sono morti erano dei fratelli aveva ragione Echo dobbiamo schierarci anche noi e il fatto che Hunter abbia parlato con lui dicendo noi stiamo bene qui perché lo fai ancora perché combatti la guerra è finita noi combattiamo per i fratelli i fratelli stanno soffrendo dobbiamo andare quello è il dialogo più bello dell'episodio e forse anche quello della stagione quasi oserei dire perché poi vedremo le ultime ma perché è il tema della serie sì ma poi Echo per me è il personaggio che veramente si è evoluto di più è il singolo clone che ha avuto il percorso veramente più complesso sin dall'inizio cioè ricordatevi i ruchi del labirinto di Rishi lì della stazione di Rishi poi passando per gli arc trooper poi prigioniero alla cittadella gli esperimenti su di lui adesso un clone che rimane appunto lealista più che resistente cioè lealista più che la repubblica ai suoi fratelli a quell'esercito lì a quella generazione perduta lui è veramente un grande personaggio e forse è il membro della batch più interessante più tridimensionale quello che sente il peso di una guerra che in realtà per lui non è ancora finita e non può finire e non finirà neanche mai perché purtroppo i cloni non saranno mai in pace cioè l'abbiamo visto anche in Kenobi anni dopo cioè cloni abbandonati a se stessi per le strade a mendicare appunto una generazione persa io sono un po' più invece pessimista di voi sul proseguio io in Pabu e nel dedicare un'intera puntata a Pabu ci ho visto il creare un posto dove questi cloni almeno quelli che non vogliono continuare la lotta possano riposarsi torneranno l'ultima puntata lì magari sì specialmente per sempre il fatto è che ragazzi e qui veramente faccio una piccola considerazione off topic Star Wars purtroppo meno escono i film cioè più ritardano l'uscita di nuovi film e ripeto è dal 2019 che non c'è più un film di Star Wars quindi sono passati già quattro anni e non se ne vedono comunque all'orizzonte purtroppo più passano anni senza che Star Wars si rivitalizzi come brand per il largo pubblico più continua a restringersi il campo di quelli interessati perché se io per vedere le cose devo aver visto quello quello e quello anche all'inizio per vedere The Mandalorian non mi serviva di vedere niente cioè vedevo The Mandalorian adesso invece per vedere The Mandalorian e beh devo essermi visto The Book of Boba Fett devo aver visto un po' di Clone Wars un po' di Rebels la Spada Oscura e i Purgill cioè comincia a diventare una cosa sempre più elitaria sempre più ristretta sempre più di nicchia se io per capire i personaggi devo essermi letto 20 fumetti o 10 libri ragazzi il campo si stringe si stringe si stringe fino a che poi rimaniamo quattro gatti e purtroppo lo vediamo anche un po' negli ascolti e nei risultati cioè nel nella risposta del pubblico quindi non so se loro se la sentono di mettere in campo delle risorse per una nuova stagione se la fanno di sei episodi sì può anche starci e io dico anche meglio a questo proposito di Emilio volevo dire ho controllato annunciarono la seconda stagione il giorno prima di mettere in onda la penultima puntata quindi le ultime due dovevano andare in onda il finale praticamente perché poi era era praticamente parte 1 e parte 2 le ultime due episodi come sarà questa e prima del finale annunciarono la seconda stagione quindi diciamo che o l'avevano già in lavorazione anche se poi è uscita molto dopo oppure in base a quelle prime 14 puntate comunque sicuramente qua ci vorrà un po' più tempo per valutare come per valutare i risultati poi in proposito a quello che ha detto Serper si falla in effetti il periodo di massimo splendore che hanno avuto per esempio Rebels era quando durante diciamo il periodo da episodio 7 a episodio 9 perché c'era molto interesse poi l'ultima stagione di The Mandalorian è uscita cioè la prima stagione di Mandalorian è uscita quando stava per uscire episodio 9 da lì c'è ancora stato l'entusiasmo perché è andata molto bene la seconda ancora poi si è andata molto calando fino ad adesso e tra l'altro ultimo film nel 2019 con il covid di mezzo sembra ancora più tempo di ancora più tempo come percepito dal pubblico si ed effettivamente anche la prima stagione di Rebels non era così seguita perché è uscita nel 2014 prima che arrivasse la nuova trilogia era uno dei primi prodotti di lancio di Lucasfilm Disney perché già era stato iniziato prima poi è stata venduta c'è stato il passaggio non era così seguito ha cominciato a spopolare dopo che è uscito episodio 7 è tornato con l'interesse quindi serve un nuovo film avrebbe dovuto uscire quest'anno Rogue Swadrons è mai neanche iniziata la preproduzione ahimè quindi speriamo di vedere qualcosa e anche abbastanza presto ma prima avete argomentato una cosa sui coloni che mi ha fatto pensare ovvero questo cortocircuito che si è creato si stanno ribellando sempre di più forse il protocollo 66 il cipi inibitore non funziona però effettivamente loro sono stati creati per servire la Repubblica e la Repubblica non esiste più quindi nasce anche non solo una sorta di ambiguità morale ma proprio di costruzione io cosa servo? a niente infatti mi stanno ritirando quindi devo badare alla mia sopravvivenza quindi al mio istinto di sopravvivenza che ho oppure accettare il fatto che sono un prodotto la guerra c'è in qualche modo sta andando avanti però la combattono gli Stormtroopers delle persone io ho perso valore non sono più questa figura eroica quindi è interessante vedere anche qui come andranno a risolverlo come Emlock abbia intenzione di risollevare perché questi cloni partivano dal pianeta Balmora venivano portati alcuni su Wayland e non sono più tornati sono morti io penso una sperimentazione in che modo? cioè secondo me Emlock non li ha ritirati ma forse pensavo ora che non ha il progetto di ritirare semplicemente ok li uccidiamo sperimentiamo su di loro nuove armi nuovi fattori il gas ok lui è immune però non ha provato solo su se stesso magari era lì durante gli esperimenti e lui a forza di respirarlo è diventato immune ma queste nuove armi scientifiche magari provate sui cloni tanto è materiale che abbiamo pagato che stiamo usando usiamolo fino alla fine rimangono vivi prossimo esperimento muoiono ecco ritirati ecco che abbiamo ambo le cose e un po' è quello che accade con Mayfield con scusate con Mayday che dissero valla a fare la missione sopravvivi c'è la prossima sei morto va bene sei da ritirare non ci servi più ecco cosa potrebbe come potrebbero risolvere la questione Emlock ma andiamo a leggere un attimo nel gruppo abbonati la domanda di Junk domanda per la live ciao a tutti ciao Emilio ciao Diego ciao Ser Percival sono felice di essere stato smentito da questo bel episodio visto che ormai ero rassegnato che la missione finale fosse salvare Omega e invece cosa che anche noi abbiamo apprezzato non è così però vorrei un vostro parere per due speculazioni sul finale che vedremo mette due alternative finale 1 finale felice crosshair e cloni si salvano e la struttura imperiale su Weyland va in fiamme tutti tornano a casa felici che sarebbe un po' anche magari la possibilità di Pabu tornano tutti lì il finale bonista invece propone il secondo quello triste crosshair e o Cody muoiono ma aggiungerei in questo caso anche forse Eco l'impero riesce a rapire Omega anche se perdendo la base quali dei due scenari ritieni più plausibile a netto di qualche differenza alla luce poi di questa ipotesi ritieni possibile una terza stagione grazie per questa per l'attenzione e lunga vita crosshair grazie a te junk allora io la terza stagione la reputo possibile però se la fanno l'unico aggancio per motivare la bad patch a intervenire è qualcosa di drammatico il rappimento di Omega secondo me sarebbe troppo perché torniamo alla separazione tra Grogu ed Injarin alla fine della seconda è già vista con la terza poi magari che inizia il primo episodio la liberano tornano insieme non mi piacerebbe piuttosto finale drammatico muore tra le braccia di Rex e Cody ammesso che lo rivedremo ma secondo me è una carta che si giocano in futuro però morire Echo crosshair uno dei due o entrambi ormai con il legame che si è creato con Hunter vedergli un fratello e fargli capire ok dobbiamo intervenire quello è l'unica secondo me direzione che può prendere la bedbatch perché altrimenti sarebbe comunque missione del giorno loro che rimangono su Pabu non ci sarebbe qualcosa narrativamente a smuoverli è l'unica cosa che può farlo per me è un finale drammatico in cui uno dei loro fratelli con cui ritrovano un legame di redenzione o con cui lo hanno costruito Echo in questo caso gli fa vedere come ha fatto Mayday con crosshair attraverso la sua morte il suo sacrificio la strada che devono seguire che non possono più girarsi dall'altra parte perché le persone attorno a loro muoiono possono guadagnare tempo ma prima o poi toccherò Omega Fraker Tech eccetera eccetera l'unico modo è combattere e quindi io ci vedo la soluzione più drammatica Sir Percival tu cosa rispondi invece allora io penso che vabbè l'impero alla fine metterà le mani su Omega palese cioè se la cercano veramente con il lanternino alla fine la trovano la Bad Batch come avevo già detto arriverà su Weyland quindi lì alla base del Monte Tantis hanno già dei dati avendo rubato i dati quindi quelli di Echo sanno come arrivare lì io mi aspetto un po' una reunion di tutti i cloni ribelli che in qualche modo mettono un po' a sacco questa stazione e magari salvano anche altri loro fratelli potremmo anche vederne altri che non abbiamo visto sinora ma magari sono prigionieri lì a Tantis non so mi viene in mente Wolf magari lui che poi sappiamo starà in Rebels con Rex e Gregor potrebbe essere liberato lì da questi cloni lealisti io però per quanto riguarda ad esempio Crosshair non mi immagino un finale positivo anzi penso che lui la butto là come teoria possa avere in quel brevissimo tempo in cui ha respirato il gas in realtà ha già sviluppato anche lui una sorta di resistenza al gas che magari il gas di Emlock servirà per tenere lontani i cloni che magari vanno a salvare Omega e lui sarà l'unico che potrà attraversare magari questo sbarramento di gas per andare a salvarla però magari resterà alla fine talmente indebolito che la salverà cioè riuscirà ad attraversare senza svenire però alla fine resterà comunque indebolito e verrà ucciso si sacrifica in questo senso redenzione eroica e morte carnale è soddisfacente a livello di personaggio effettivamente perché comunque quando Emlock gli dice sembra che tu non abbia ancora sviluppato l'immunità al gas però è come se ti facesse capire che lui potrebbe anche lui svilupparla cioè non esclude questa ipotesi quindi è quell'elemento di scrittura che mi fa pensare che questo gas appunto potrebbe essere usato per respingere l'assalto e lui è quel punto è l'unico che può sacrificarsi con successo per salvare Omega mi piacerebbe anche una redenzione barra sacrificio di Cody appunto una morte tra le braccia di Rex che comunque spinga Rex poi a diventare il fulcro del vero movimento proto-ribelle cioè fulcrum Ahsoka tutte le cose che sappiamo però ecco io e qui chiudo penso che loro vogliano dare una vera chiusura cioè nel senso se poi tu la terza stagione la vuoi fare e questo si può fare tutto poi gli spunti comunque ce li hai e li trovi ma se quelle risorse poi le hai perché stanno tagliando anche tante serie le stanno un po' dilazionando sarà interessante vedere anche la Star Wars Celebration quello che ci dicono ragazzi perché sono anni che questi annunciano film e poi li smettiscono il giorno dopo quindi cioè se smentiscono i film cioè le serie animate ancora di più ristiano e io penso che loro prova trilogia sì cioè nel senso penso che loro un senso di chiusura lo vogliano comunque dare quindi mi immagino sacrifici eroici qualcosa che comunque poi spinge magari le persone anche a recuperarla perché magari c'è un passaparola positivo dice oh ma avete sentito che bel finale che ha avuto Bad Batch magari la gente se lo recupera però ecco penso che questa storyline la vogliano chiudere e comunque Omega se viene catturata per me viene anche ripresa perché non me la immagino l'insa la moglie nelle mani dell'impero fino a magari un anno e mezzo due che poi a quel punto li costringerebbe davvero a farla la terza stagione perché questa dopo è stata rapita che facciamo quindi vediamo però ecco crosshair segnatevi questa cosa del gas perché se ci prendo e questa è una soluzione narrativa molto bella qui effettivamente non ci ho pensato mentre lo stavi dicendo mostrare il gas quella piccola citazione potrebbe essere un'ottima pensata e sono curioso anche di vedere se l'avrei zeccata ma prima di passare alla risposta di Diego invece volevo prima leggere un commento che mi è piaciuto un casino Dago alla Disney piace rapire i bambini Leia Grogu Omega effettivamente c'è una sorta di perversione della Lucasfilm che va in questa direzione negli ultimi anni mentre Endernick vai col sondaggio questo episodio vi è piaciuto o no rispondete qui sotto ma Diego tu cosa rispondi a Junk di questo finale di stagione buono cattivo negativo positivo innanzitutto saluto Junk grandissimo Junk compagno di partite su Squadrons allora provo a un po' di ipotizzarlo a mo' di soggetto Omega secondo me è comunque diciamo il fulcro un po' come Grogu in Mandalorian il fulcro della componente di mistero che c'era attorno a questa serie ora io dubito che negli ultimi due episodi prima cosa non danno un finale a lei come personaggio perché è comunque una bambina seconda cosa secondo me potrebbero ma non penso che lo faranno non daranno la spiegazione definitiva su cosa è lei sul perché è nato eccetera quindi io punterei questo due personaggi eco e crosshair secondo me non è che non è che si sono esauriti come personaggi ma secondo me hanno raggiunto l'apice ideale per terminare qui cioè lasciare da vincitori da vincitori a livello di scrittura del personaggio li interrompi qui e avrai un ricordo colorioso di loro due quindi direi che potrebbero lasciarci le penne loro due in particolare crosshair è una grande bussola morale poi per la bad batch mentre eco lo è per omega in particolare dato il rapporto che ci hanno mostrato in questa stagione finale a metà tra il drammatico e il siamo scappati da in qualche modo da quella da quella base imperiale e magari è andato a finire pure male magari si è anche liberato lo zilobist tipo king kong come diceva persi vale qualche tempo fa e ha distrutto tutto torniamo su pabu e un'eventuale terza stagione omega è più grande non so cioè ci sono fatti vari time skip anche di asoka che tipo passavano due anni ma sembrava che ne aveva cinque in più quindi poi lascio a loro capire quanto più grande e maturando avendo più consapevolezza di se stesso pensando al fatto che per lei eco crosshair hanno si sono addirittura sacrificati sono morti lei stessa nella terza stagione ha l'obiettivo di capire che cosa è lei perché è stata perché è stata creata perché veniva ricercata così tanto dall'impero e quindi nella terza stagione c'è un suo viaggio personale quindi stagione molto incentrata sul di lei che diventa la protagonista a tutti gli effetti per capire appunto qual è la sua vera identità perché è stata creata perché serviva all'impero cosa di speciale perché è femmina per esempio che sembra una banalità però è una grande differenza rispetto a tutti gli altri e mi fai la terza stagione così oppure finale ripeto torniamo indietro il finale quello lì chiudi la serie in modo drammatico così se vuoi farai un seguito altrimenti comunque il finale è che loro poi si sono liberati di questa minaccia di questo di questo impero che li insegue per catturare Omega e rimarranno lì su Pabu indisturbati perché magari nessuno sa dove si trovano nemmeno Sid che ripeto nell'ottica di una terza stagione o di stagioni successive anche lei non ha avuto un finale nella loro questione quindi è anche lei una carta riutilizzabile se vuoi andare avanti perché non hai tagliato speriamo di no speriamo di no perché però per dire non hai non hai messo una chiusura qui quindi volendo che non c'è una chiusura no però boh non lo so per me è un personaggio sopra le righe e che ha anche poca coerenza rispetto a quello che però te lo puoi si te lo puoi giocare quello si te lo puoi giocare in un incontro sai quelli di inizio stagione che li sbrighi in pochi secondi Sid che all'inizio della terza stagione si va a presentare lì ah e lì e la uccidono subito io di Sid ho pensato che secondo me potrebbero riprenderla nel finale in modo un po' inaspettato però a rivelarsi che in realtà li aiuti in qualche modo perché lasciata così dopo che ci hanno fomentato l'idea che li avrebbe traditi non si è rivelata giocarselo al contrario magari hanno avuto una buona pensata sarebbe una carta che ribalta le aspettative quindi non so come però ho avuto un attimo quell'intuizione che sono su Pabu devono andare adesso a salvare Crosshair vanno da soli chiedono aiuto magari in qualche modo Sid potrebbe aver cambiato idea ricambiare finalmente tutto quello che loro hanno fatto per lei e giocarsela in qualche modo ma guardando il sondaggio che ringraziamo Endernick per averlo lanciato avete votato il massimo puntata meravigliosa e tutti quanti erano d'accordo perché è piaciuta di nuovo quando fanno per bene le cose si notano e piace al pubblico quindi sono felice ma siccome siamo arrivati alla fine io ringrazio i miei moderatori che sono stati con noi qui in chat Endernick Raisares e Trampot ringrazio voi che ci avete seguito gli abbonati e quelli che poi vedranno la diretta su YouTube vi ricordo che qui sotto avete il link per entrare nel gruppo Telegram quello libero a tutti in cui trovate consigli per acquisti i nuovi video le nuove dirette e tutti gli aggiornamenti riguardo Star Wars e il canale e come sempre come vi dicevo questa settimana in vendita sul nostro store Ebay Aftermath libro rarissimo in italiano che porteremo sul canale entro maggio ma ringrazio Sir Percival per essere stato qui con me grazie a te Emilio ringrazio te per l'ospitata è sempre un piacere essere qua sui tuoi lidi a parlare di Star Wars stavolta è andata bene un saluto anche ovviamente a Diego a tutta la chat e a quelli che ci recupereranno anche in differita quindi un saluto e un abbraccione quindi anche al buon Diego che oggi è stato qui con noi per parlare del quattordicesimo episodio punto di svolta grazie Emilio grazie Percival e dai dai che secondo me ripeto ci arriviamo un po' meglio della prima stagione sono più fiducioso stranamente perché l'altra volta invece ero un po' preoccupato della prima stagione qui sono un po' più fiducioso non dico che sono sicuro che vada bene ovviamente però sono un po' più con un po' più di entusiasmo e anche magari un po' di hype per vedere come si va a concludere quindi dai speriamo bene e grazie anche alla chat a Giang che ha fatto la domanda e a tutti gli altri che sono stati qui in chat noi ci vediamo quindi settimana prossima con il penultimo episodio di The Bad Batch come sempre grazie a tutti e che la forza sia con voi che la forza sia con voi grazie a tutti